Buona giornata ancora una volta, benvenuti nello studio di Mr. Gadget, quello che ogni domenica vi aspetta su Radio Number One e poi con le molteplici repliche nel corso della settimana e che trovate anche in formato podcast, se siete utenti iOS, quindi di iPod Touch, di iPad o di iPhone, con l'applicazione podcast trovate Mr. Gadget davvero con una facilità senza pari. È il giorno dei tablet, c'è Francesco che mi dà sempre una mano per le riprese che può riprendere questo bendidio che ci ha schierato su questo tavolo perché questo è il giorno dei nuovi iPad. Ho tenuto l'iPad mini in una scatola appositamente, guardiamolo tra poco, qui invece ho messo, e tengo la cover per riconoscerli, l'iPad, new iPad e questo che è diventato l'iPad 4. Qualcuno mi dovrà spiegare un giorno perché questo qui non si chiama iPad 3 e questo invece è diventato iPad 4, ma in ogni caso eccoli qua. Allora, ci sono tantissime cose da dire, forse di meno sull'iPad che non sull'iPad mini, però come vedete non era difficile prevederlo. Sono assolutamente identici, identici anche nello spessore, assolutamente ugualerrimo. L'unica differenza che abbiamo dal punto di vista estetico, questa è una versione 3G, questa è una versione Wi-Fi, ma quello lo sappiamo, dal punto di vista estetico c'è questa parte inferiore che è quella del connettore, qui abbiamo il lightning connector e qui abbiamo il classico 30 pins dock, quindi il dock a 30 pin. Sapete che il lightning si può mettere in entrambe le parti, che è totalmente digitale, che 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 che, comunque insomma è inutile che stiamo qui a vedere se è meglio o se è peggio, comunque andava cambiato. Per quanto riguarda invece il funzionamento, diciamo che si vede la velocità, stavo cercando di fare, guardate parto dalla stessa cosa, tenete conto, anzi però devo fare una cosa perché non siamo connessi alla rete wireless, quindi bisogna connettersi alla rete wireless per cercare di avere una comparazione, bisogna vedere anche se siamo connessi alla stessa di rete wireless, sì, quindi adesso possiamo, non so quante applicazioni ci siano aperte da questa parte, non so quante ce ne siano aperte da quest'altra, però possiamo partire ad esempio vedendo quello che succede, qui non era ancora stato attivato, saltiamo questo passaggio e quindi rifacciamo, vediamo ad esempio da capo, però insomma avete già visto in apertura il tipo di velocità, che non è molto lontano, è un pelo più veloce il processore di iPad 4, ma non è questa cosa che ti uccide, che fa una differenza fondamentale, di certo quello che è importante è che l'iPad con questo A6X, questo processore A6X, con il processore gestisce tutte quelle che sono le funzionalità dell'iPad, io devo dire la verità, ho trovato una differenza sicuramente nel funzionamento, soprattutto quando lo si usa con dei giochi, lo faremo nei prossimi giorni, in fase di presentazione di questo iPad è stato mostrato un gioco che non è ancora disponibile purtroppo al pubblico, quindi non vi posso far vedere con una tale quantità di elementi grafici gestiti con una facilità estrema e senza alcun tipo di rallentamento, che è il momento in cui voi vedete la vera differenza tra i diversi processori, però insomma, piaccia o non piaccia, ora c'è questo modello A6X, diciamolo in italiano che è più facile, fotocamera frontale per FaceTime in HD, fotocamera posteriore da 5 megapixel, possibilità di riprendere in HD, lo schermo è il retina con una risoluzione che è addirittura fuori di testa, insomma le caratteristiche le conosciamo abbastanza bene. Io torno invece ad una cosa, abbandono un attimo l'iPad 3, torno invece ad una cosa di un po' di tempo fa, io avevo fatto un clip che era dedicato a un tema, ovvero ce la fa il Galaxy Note a competere con l'iPad 3 e molti di voi mi avevano scritto, dovresti scrivere la cosa contraria, sei un fan di Apple, sei un fanboy, non capisci niente, il Galaxy Note è molto meglio, allora io qui ho per le mani un prodotto che costa 499 euro, questo è un prodotto che ne costa 599 euro, è vero questo ha il 3G, ma se dovessi colmare il gap mettendo il 3G anche su questo avrei esattamente la stessa cifra, però secondo voi la percezione di questo robot qui è uguale alla percezione che si ha con questo? Quando io guardo la costruzione di insieme dei prodotti e non sono un nerd, perché io insisto sul fatto che alcune delle funzioni che vengono proposte da questi oggetti, poi non vengono mai utilizzate, questo è un dettaglio secondo me non indifferente, io immagino ai numeri che questi prodotti fanno non con coloro che sono un po' nerdi nelle abitudini, ma con il grande pubblico, il pubblico che arriva a casa la sera, imbraccia questo oggetto ed essenzialmente legge la posta elettronica e naviga su internet, non so voi chi avete dentro casa, parenti, fratelli, mogli, fidanzate, cugini, vari ed eventuali, non so se avete notato persone che non hanno molta dimestichezza con l'elettronica, arrivano a casa, sollevano questo oggetto, giocano su Facebook, cazzeggiano su Twitter, leggono la posta elettronica e vanno a navigare in internet, quindi non sono così addentro per quanto riguarda la potenzialità del software, la potenza del processore, io parlo della stragrande maggioranza delle persone, non entriamo nel dettaglio, sì ma io poi uso un gioco all'estrema potenza, perché non è quel tipo di nicchia lì che fa la differenza, se voi pensate a queste persone che hanno scarsa conoscenza elettronica e pensate all'approccio che possono avere in un negozio guardando questi oggetti, uno di fianco all'altro, plasticona e questo genere di assemblaggio, di prodotto, di qualità dei materiali, di finiture, io credo che qui ci sia della strada da fare, la strada da fare è per la percezione, oggi la percezione è un elemento fondamentale nell'impatto che un oggetto fa sui propri clienti, la percezione di questo è veramente di un prodotto molto molto cheap, ed è un peccato perché non lo è, questo è un super prodotto, il Galaxy Note, questo è il Note 10.1, è un prodotto straordinariamente bello, però intanto la batteria dura la metà di quella di un iPad, e poi c'è questa percezione di plastica, che è quello su cui secondo me bisognerà lavorare. Beh, qualcuno di voi dirà, è l'iPad mini? È un momento, prossimo filmato, ci vediamo tra un po'. Grazie.